Quindicesima Sagra della Trebbiatura, Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Sagra della Trebbiatura che ogni sera avremo uno spettacolo musicale con Angelo Carestia, Vincenzo Pela, troviamo anche Ropopopo, c'è musica per giovani. Le nostre specialità sono gli spaghetti della trebbiatura, poi abbiamo pecora alla callara, abbiamo anche arrosticini, salsicce, formaggio fritto. Un'associazione che è composta da 40 persone che volontariamente partecipano a questo evento e ad altri eventi che durante l'anno facciamo come la castagnata o gite sociali. Tutto è nato 25 anni fa con la prima rievocazione della trebbiatura, poi nel corso degli anni abbiamo aggiunto anche la Sagra, infatti domenica avremo al mattino il raduno dei trattori d'epoca e nel pomeriggio avremo la rievocazione della trebbiatura dove saranno offerti biscotti specifici della trebbiatura con vino omaggio a tutti gli intervenuti, vi aspettiamo numerosi.